Bene, buon pomeriggio, benvenuti, grazie di essere venuti alla Masterclass il mondo dei lambruschi in otto calici. Mi presento, io sono Paolo Ferretti della delegazione AES di Reggio Emilia. Siamo in Emilia e quando si parla di enogastronomia non possiamo non parlare di lambrusco. Il mondo del lambrusco, o meglio, il mondo dei lambruschi è un mondo molto complesso e molto variegato. I relatori, alle mie spalle, hanno lavorato veramente sodo per cercare di concentrare l'essenza in otto calici di questo tipo di prodotto, di questo vino e di loro territori. Tant'è che a loro è stata lasciata la libertà di esprimersi come meglio ritenevano opportuno, come si sentono il territorio addosso, visto che ne sono autottoni. Quindi, il tempo è tiratissimo, passiamo subito alla Masterclass presentando per la delegazione di Modena Alessandro Ticci, per la delegazione di AES di Reggio Emilia, Andrea Iori, per la delegazione AES di Parma, Mauro Agigatti e abbiamo il piacere di ospitare Giacomo Savorini del consorzio di tutela dell'ambusco di Reggio e Modena. Quindi, partiamo subito con la Masterclass. Lascio a te la parola a Giacomo per fare l'introduzione. Questo? Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qua. Grazie però a AES, grazie ai relatori, grazie dell'invito. Da un anno c'è un unico consorzio di tutela delle DOC, sono corollati negli ultimi anni un paio di campanili tra Modena e Reggio, che sembrava una cosa difficile, e invece si è fatta. Lambrusco, però diceva giustamente Paolo, parliamo di Lambruschi perché l'obiettivo dei prossimi anni è far capire già chi è fuori dalle province di Modena e Reggio che di Lambrusco non ce n'è uno, ma ce ne sono tanti, e poi come attività consortile andremo in giro per il mondo perché il Lambrusco oggi è il vino più diffuso al mondo. E quando lo dico, lo dico con un po' di orgoglio, ma rispetto a un'altra denominazione molto importante che produce di più in Italia, è comunque il vino che trovate più in giro per il mondo. Per noi questo è un orgoglio. Ringraziamo sempre le associazioni AES, in questo caso in modo particolare per l'invito perché per noi è molto importante far capire che Lambrusco oltre a un brand è anche un concetto, è anche un territorio che però portiamo fuori dai confini nazionali e non sono tanti i vini che possono avere questo orgoglio di poter rappresentare l'Italia nel mondo. Quindi grazie, siamo velocissimi. Paolo ti do la parola. Bene, passiamo subito ad entrare nel vivo della Masterclass con il primo territorio che andiamo ad affrontare. Parliamo di Modena con Alessandro Ticci. Salve a tutti! Mi sentite anche così? Preferite così? Preferiamo così. Bene, Modena. Questa è la regione Emilia-Romagna, questa, adesso lo faccio vedere in tutte e tre, è la provincia di Modena e questa è la mappa dei vini. Castelvetro, Sorbara e a nord Santa Croce. Noi ci soffermiamo adesso su Sorbara. Notate, e lo faccio vedere in tutti e tre, che ci sono due fiumi, sono i fiumi modenesi, Secchia e Panaro, che in questo punto sono particolarmente vicini. Negli altri punti, per esempio, vedete che fa da confine alla provincia. Sorbara è pianura. Il Lambrusco di Sorbara lo facciamo in pianura e lo facciamo in questi bei vigneti dove tradizionalmente già parliamo del secondo vitigno della provincia, cioè dell'Ambrusco Salamino. Perché il Lambrusco di Sorbara è il vino, ma è anche il vitigno. E come vitigno ha un problema, ha il problema di non riuscire bene a autoimpollinarsi, perché non è ermafrodita, è una via di mezzo tra una vite silvestre e una vite addomesticata, praticamente, ha una parte femminile e una parte maschile che, peraltro, sono messe al contrario, quindi ha particolarmente difficoltà ad autoimpollinarsi. Per cui cosa ci mettiamo noi? E lo vediamo già qui, un filare in mezzo a due di Sorbara è Salamino, che invece è un grande produttore, iniziamo già a dire questa cosa, ed è fondamentalmente il grande impollinatore. Andiamo con questo, andiamo avanti. Quali sono i terreni tipici? I terreni tipici sono quelli del fiume, cioè terreni limosi. Abbiamo detto prima che nella zona di Sorbara abbiamo questi due fiumi che si avvicinano particolarmente. Questa è la zona più vocata in assoluto e guarda caso, in mezzo, c'è il paese di Sorbara che dà il nome al vino e al vitigno. Questa zona viene anche chiamata il Cristo ed è una zona che, peraltro, rischia particolarmente anche di essere sempre allagata. Avevo messo un'altra foto, una foto dove si vedeva l'alluvione del 2014 per farvi capire che qui, comunque, i terreni sono limosi, sabbiosi e il Sorbara lo richiede. Non ama l'argilla, tende a non produrre bene. Questo è il nostro grappolo. Il nostro grappolo, lo vediamo, è spargolo, non solo spargolo. Ha anche questo problema di accinellatura, lo vedete in alto. È quello che vi dicevo prima, il Sorbara ha difficoltà ad autoimpollinarsi e soffre anche di accinellatura. Quindi abbiamo bisogno sempre del mitico salamino, anche se ultimamente si trovano dei vigneti anche solo e esclusivamente di Sorbara. Quali sono comunque le caratteristiche di questo vitigno? Una serie di cose in vigna, ve le ho già dette, però già vediamo qui che abbiamo un vitigno molto, molto, molto scuro come grappolo, ma in realtà dà colori particolarmente chiari perché è trasparente, sempre trasparente e tende al rosato. E infatti questo è il classico, quello che vedete alla vostra sinistra, è il classico colore del Sorbara. Sorbara è trasparente e tende al rosato. Più lo facciamo magari un pochettino più maturare può risultare più rosso, ma un rosso sempre molto, molto trasparente. Quello che invece vediamo dall'altra parte sarà qualcosa che somiglierà al più il nostro salamino di Santa Croce e il graspa rossa di Castelvetro. Siccome noi vogliamo degustarlo andiamo direttamente sulle note gustolfattive e qual è la caratteristica fondamentale che un Sorbara deve avere assolutamente è l'acidità. Se non abbiamo acidità non abbiamo un buon Sorbara. Quindi acidità, freschezza in bocca, grande adattabilità agli spumanti, non è un caso che ovviamente sono generalmente vini frizzanti. Poi esiste comunque un produttore che lo fa fermo e devo dire comunque è buono lo stesso, ma molto adatto anche al metodo classico e quindi anche per i frizzanti rifermentati in bottiglia. Altra caratteristica secondo me fondamentale che viene data soprattutto dal territorio è la parte salina. Vi dico una cosa in più sempre sul territorio, sul fatto dei fiumi, c'è chi sostiene che il Sorbara buono, veramente buono, lo si fa esclusivamente sul greto del fiume. Non è verissimo, nel senso che non è una regola assoluta, però è vero che più si è vicini al fiume è più di solito. Sorbara riesce meglio e non solo, spesso anche riesce a produrre meglio, quindi produce di più. E noi, sperando che abbiamo tutti quanti il vino, andiamo già a degustarlo. Colore, non c'è dubbio, molto molto brillante, sfavillante, già si parla di questa acidità, questa freschezza che comunque è tipica. Questo colore, adesso io non ho proprio una zona molto luminosa, però rosato che va sul ramato, un bellissimo colore, molto invitante. Per le bollicine non ci soffermiamo perché comunque questo è un frizzante. Andiamo a sentire un po' le note al naso, d'altronde quelle note aggrumate possono essere spesso anche sentite al naso, insieme alle classiche, ma queste note sono tipiche di tutti i lambruschi, note di frutta di bosco. Quindi comunque qui potrete sentire la fragolina, il lampone, tutte note classiche. In alcuni casi si può andare oltre, ma ovviamente il naso e anche poi vedremo il corpo di questo vino, tende ad essere esile. Non sono vini dalla complessità incredibile come naso e come corpo, ma di grandissima bevibilità. Quindi fiore, frutto, tantissimi fiori, tantissimi frutti, ma noi vogliamo andare a verificare quello che dicevamo prima. Quali sono le caratteristiche più importanti? Freschezza, sapidità. E dal punto di vista della freschezza non c'è nessun dubbio. Ingresso, dritto, secchissimo, bellissima freschezza, che rimane decisa, tagliente, come peraltro questa bottiglia tende a essere, cioè questa bottiglia ha questa caratteristica, di solito la si riconosce in mezzo ad altre, e poi alla fine questo finale, leggermente sapido, non particolarmente questo, ma fruttato, gradevole, bella persistenza. Quello che sentivamo al naso lo risentiamo in bocca. Questo non per forza vuol dire che è, ricordiamo che i vini non devono essere per forza coerenti, a prescindere, però sentiamo un vino gradevole, che ci richiama al calice, che ci dice beviamo e che ci pulisce dannatamente la bocca. Più lo sentiamo e più probabilmente sentiamo anche la parte sapida, più lo beviamo un pochettino più sapido, gradevole sempre, classicamente da abbinamento. Questo qui è un vino che ha il suo equilibrio, però è fondamentalmente sbilanciato ed è classicamente abbinato a tutto ciò che è la cucina emiliano-romagnola, soprattutto emiliano ovviamente. Quindi comunque con una cucina che può essere un po' più grassa. Gnocchi e tigelle sono le cose classiche, però in realtà vedrete che questo abbinamento può andare bene anche col pesce e con tante altre cose, perché è un vino, come abbiamo sentito, leggero, gradevole, fresco, che vi lascia una bocca perfettamente pulita e gradevole. E a questo punto, siccome il tempo è poco, andiamo già avanti. Presto che tardi. Proseguiamo in alto, quindi andiamo più a nord, scusate, questo ho sbagliato io il tasto, questo è un gravissimo errore, ma andiamo a nord, questa zona che va verso il Po è la zona di Santa Croce, quindi dove facciamo il Lambrusco Salamino di Santa Croce. Il Lambrusco Salamino di Santa Croce è una frazione di carpi e questo è proprio una foto fatta nella zona, lì siamo a un chilometro da Santa Croce. Di nuovo, pianura più pianura assoluta, la differenza c'è, nel senso che, perché in queste zone il Salamino, che è comunque il vitigno, se vogliamo, più ubiquitario di quelli di cui andiamo a parlare stasera, perché qui c'è più Salamino, comunque qui è stata fatta una denominazione specifica per il Salamino, le condizioni sono soprattutto di terreno. Come prima, non è un caso peraltro, il Salamino è storicamente il complementare, non solo in vigna, ma poi automaticamente se era in vigna veniva fatto anche per il vino, il Sorbara ha il 60% come minimo di Lambrusco e Sorbara e massimo 40% di Salamino, adesso tende ad essere sempre in purezza il Salamino. Questa cosa quindi è un complementare e come complementare si comporta in maniera quasi opposta. Produttivo, cerca l'argilla, questa è argilla piena, produce meglio. Nonostante il fatto che, qua vediamo anche questo grappolo, nonostante che abbia una buccia un po' fine, quindi se vogliamo questo può essere uno dei pochi difetti in vigna di questo vitigno, va molto, produce tanto, non si ferma mai, si chiama Salamino perché, se vedete, sembra un gran salame. Bene? Qual è il problema del Salamino? Che abbiamo detto in vigna, non ha problemi di sorta, è in cantina. In cantina il Salamino è difficile, soffre particolarmente di riduzione, quindi tende ad andare a avere troppo poco ossigeno e quindi può creare una serie di puzze o chiudersi particolarmente. Quindi, e questa cosa può succedere in giornata, bisogna fare molti, molti travasi, anche due o tre nello stesso identico giorno. Quindi, vitigno molto, molto pratico in vigna, particolarmente difficile invece in cantina. Da un certo punto di vista io faccio un legame, come prima avevamo questo vitigno che è il sorbara, che è scuro e poi diventa chiaro, trasparente, che può essere, come dire, il nebbiolo e quindi facciamo questo legame col Piemonte, il nostro Salamino è un po' come il dolcetto. Il dolcetto è la stessa cosa, ha lo stesso identico difetto. Quali sono le caratteristiche? Vediamo se funziona questo. ho messo un'unica foto, una foto che unisce tutto. Ovviamente, di nuovo, la caratteristica frutto di bosco è tipico per praticamente tutti i lambruschi, quindi da questo punto di vista dice poco, però ho messo tanto frutto nero. Perché? Perché questo vitigno è scuro e quindi di nuovo, andiamo a vedere il complementare, andiamo a vedere quanto è quasi opposto al sorbara. È particolarmente scuro, non è un caso che quando il sorbara viene fatto anche col salamino tende a essere più scuro e l'altra cosa che tende a essere, un pochettino se vogliamo, più fruttato, ma più rotondo, quindi meno acido, meno tagliente come il vino che abbiamo sentito prima. Perché? Perché il salamino è così, è più morbido, è più pieno, frutta acidula, quindi ha comunque sempre queste note più acidule, ovviamente non può avere la stessa identica acidità del sorbara. E noi adesso, se appena abbiamo servito tutti, lo andiamo anche a sentire. Aspettate un attimo. Comunque poi dopo, alla fine, se volete fare qualche domanda, la potete fare, alzate il braccino e dite salve Alessandro, dimmi, non ho capito questo, dimmi quest'altro e io vi rispondo. Alla fine però, perché se no Paolo vi uccide? Ci siamo? Lo so, sono stato velocissimo perché i tempi sono purtroppo molto stretti, ci sarebbe molto di più da dire di tutti i vitigni di tutto questo territorio, però io ho meno di mezz'ora. Ok, ce l'abbiamo tutti. Questo peraltro è uno dei vini che più rappresenta in assoluto questo vitigno e soprattutto questa denominazione. Quindi, ovviamente qua abbiamo un colore molto più scuro, violaceo, con tutte queste sfumature che vediamo già qui, sempre vivace, ovviamente non con la stessa vivacità, con la stessa brillantezza che avevamo prima. Naso. Naso di grande intensità, di nuovo, questa foto serve anche a questo, un buon Santa Croce è tanto frutto, magari non grande complessità, quindi non è che vediamo tanti fiori o tanti frutti qua davanti, cioè di tanti tipi, ma tanti insieme, quindi è questo, naso molto intenso, frutta principalmente, tutta frutta di bosco, fiore fortissimo e alla fine, se vogliamo, qualche piccolissima nota leggermente speziata, dolce, tutto sul dolce e su qualcosa di acidulo. Di nuovo, questo vitigno è così. E noi vediamo se è anche acidulo e più morbido in bocca. Direi che l'ingresso è sempre di buona freschezza, ma non eccessiva, entra in bocca ed è tutto fruttato ed effettivamente, nonostante una acidità che comunque è presente, risulta effettivamente molto più morbido, molto più rotondo, molto più fruttato. Quindi effettivamente questo vino rappresenta perfettamente quello che è questa zona e questo vitigno. Sentite quanto, se vogliamo, è anche talmente tanto fruttato e floreale da essere quasi eccessivo, nel senso è talmente tanto, 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 molto, tutto molto anche di frutta matura, matura, acidula. Non stiamo sentendo qui una prugna, stiamo sentendo proprio le amarene, la mora, il mirtillo, forse mirtillo più di tutti. Pieno, gradevole, anche questo ci lascia una bocca pulita, ma decisamente diversa. Leggerissimo tannino. Il primo il tannino non ce l'ha, sorbara, tannino zero praticamente, il salamino un po', però siccome c'è un nostro associato, al quale io devo tantissimo, che dice che la provincia di Modena è detanninizzata, io passo all'ultimo vino, che è della zona di Castelvetro, quindi l'Ambrusco-Graspa-Rossa di Castelvetro, è la zona blu. Siamo a sud di Modena e la zona sud di Modena va verso le colline. Quindi, prima parlavamo di due vitigni che si trovano principalmente in pianura, il salamino si trova anche qua, il salamino è quasi obbligitario, in certe situazioni può essere usato di nuovo per impollinare, per permettere anche una produzione più forte anche di altri vitigni, o magari dare un po' più di ridondità, un po' più di colore. Queste sono sempre le loro caratteristiche. ma qua si sale, si arriva anche molto in alto, non si arriva proprio in montagna, ma qui in queste colline, adesso cerco di farvelo vedere, qua in mezzo c'è Castelvetro, qua in fondo abbiamo Modena, queste colline qui è la zona del Graspa-Rossa, è la zona più vocata in assoluto. Il Graspa-Rossa in realtà si fa anche in pianura, perché la prima parte della denominazione è anche una zona pianeggiante, però la zona più vocata in assoluto è la collina, non è un caso che ci sono dei produttori che si sono uniti per un marchio a sé stante. Queste colline sono argillose di nuovo, quindi di nuovo il Graspa-Rossa ama l'argilla, ama però anche una zona un pochettino più limosa. Di sicuro con le sabbie perde corpo, perde corpo e perde qualcosina. Perché? Perché il Graspa-Rossa, adesso andremo a vedere, è quello come il Sorbara si discosta per essere il più chiaro di tutti i Lambruschi, il Graspa-Rossa si discosterà per essere quello un po' più particolare, quello che è più vino, se vogliamo può sembrare. Perché si chiama Graspa-Rossa e quali sono una serie di condizioni? Intanto anche questo è ben produttivo, molto vigoroso però, quindi è anche difficile da gestire in vigna, bisogna non dargli mai troppo spazio perché sennò poi fa tanta foglie e si chiama Graspa-Rossa per diversi motivi. Uno è questo, è quello principale. Se vedete è rosso il tralcio, rosso il raspo e in questo periodo le colline sono fantastiche, sono particolarmente panoramiche perché tutte le foglie diventano di un rosso molto, molto, molto acceso. Questo è un vecchio clone, quindi è un clone spargolo, i cloni nuovi assomigliano, se vogliamo, alla Barbera, quindi più compatti, più pieni, anche un pochettino più grossi. Quali sono però le caratteristiche di questo vino? Che abbiamo detto, non funziona con questo sempre. E abbiamo detto è quello che assomiglia di più a un vino rosso, cioè chi lo considera un vino più rosso. Perché? Perché intanto qui si inizia a parlare di tannino. Sicuramente il Graspa-Rossa ha nettamente più che il tannino degli altri vitigni, del Sorbara più che mai. Non solo, ha sicuramente un corpo maggiore, pecca a sorpresa un pochettino in acidità. I lambruschi comunque in acidità ce ne hanno sempre netta, però sicuramente pecca rispetto ad altri un pochettino in acidità, prende più corpo e non solo, ha una serie di profumi e aromi, soprattutto alla fine, che possono essere un pochettino più ruspanti, un pochettino più forti, che vanno anche verso la mandorla, è il motivo per cui alcuni produttori, tuttora dicono in realtà per il Graspa-Rossa noi dobbiamo anche fare un po' di vendemmia tardiva. È comunque il vitigno più tardivo in assoluto, come il salamino è il più precoce, per ammorbidirlo un pochettino, togliergli un pochettino questo tannino che in zona qui in effetti non è sempre gradito, e togliere alcuni profumi che magari possono risultare un pochettino più aggressivi. C'è qualcuno che dice un tempo che il Graspa-Rossa era il vino che puzzava, cosa falsa, però per darvi l'idea del fatto che può avere degli aromi più decisi, è sicuramente quello più complesso, è sicuramente quello un po' più equilibrato se vogliamo. Ce l'abbiamo tutti? Direi di sì, e quindi andiamo a degustarlo. Colore. Ah, qua avete detto, non si vede tantissimo, però questa è un'altra delle condizioni guardandolo per cui si parla di Graspa-Rossa. La spuma del Graspa-Rossa tende ad essere sempre violacea, rossastra, quindi anche per questo può essere chiamato Graspa-Rossa, ma in realtà il nome principale dovrebbe venire veramente dal raspo. Comunque, questa spuma spesso è molto attaccata, il Graspa-Rossa può essere fatto con un pochettino di zucchero in più, in alcuni casi, e quindi si attacca non solo, ha più proteine degli altri lambruschi, e quindi di nuovo, si attacca come se fosse una birra, perché la birra attacca per le sue proteine, per le proteine che facciamo con i cereali. Comunque, colore, colore sicuramente violaceo ancora, comunque non particolarmente scuro, perché? Perché Graspa-Rossa può essere molto scuro se fatto in una determinata maniera, ma in realtà in generale ha una sua leggera appena trasparenza, dipende da come viene fatto. Più lo facciamo maturare e più risulterà scuro, più magari lo facciamo in una zona più limosa e più sarà chiaro, è quello che può essere più vario, se vogliamo, tra i vini di cui stiamo parlando. Naso meno intenso di sicuro, soprattutto di quello precedente, ma se sentite non stiamo parlando solo di fiori e frutta. Qui sicuramente queste note un pochettino più sullo speziato, queste note un pochettino più sull'erbaceo, queste note che un pelo vanno anche addirittura, se vogliamo, sul balsamico, ci sono. Questo è più erbaceo, per esempio, di altri. Non lo giriamo perché noi non vogliamo girare tutto, non abbiamo, come dice un produttore della zona, non abbiamo leno Parkinson, ma lo andiamo a assaggiare. E io penso che il sorso descriva bene quello che è questo vitigno. Di sicuro qui la mitica provincia detanninizzata non c'è. Il tannino non stiamo parlando di nebbiolo, non stiamo parlando di sagrantino, non stiamo morendo di tannino, ma il tannino è presente, non deciso, ma presente. L'ingresso è fresco, acidulo, ma poi arriva il corpo, arriva il tannino, che ci rimane anche un po' in bocca. Con un finale, comunque un po' dolciastro, è possibile che qui ci siano magari quei 5 grammi litro per renderlo un pochettino più morbido, per togliergli queste note un pochettino più aggressive. Ma io vi assicuro di aver sentito qualcosa fermo, molto interessante, ma che non ha nessuna possibilità di essere venduto, perché i modenesi non lo bevono, lo bevono solo frizzante. E fuori, se siamo abituati a bere una roba molto scura, molto dolce, figuriamoci se andiamo a bere l'ambrusco graspa rossa fermo, però è sicuramente quello che più si potrebbe adattare a una versione di questo tipo. Pieno, sicuramente quello più corposo, sicuramente quello anche un pochettino più dinamico in bocca, gradevole però, finale di nuovo, tra il frutto un po' acidule di nuovo questa nota un po' erbacea, che è evidentemente un pochettino la caratteristica proprio di questa etichetta. E io a questo punto mi sa che ho parlato anche troppo e quindi passo a Reggio. Buonasera, allora da Modena passiamo a Reggio, la distanza è minima, quasi non ce ne accorgeremmo se non ci fossero i segnali stradali, ma una differenza fondamentale tra l'ambrusco e la reggiana e quella modenese c'è. A Modena avete sentito, si parla di sorbara, si parla di salamino, si parla di graspa rossa, parliamo di monovitigni. A Reggio quando si parla di l'ambrusco tradizionalmente si parla di uvaggi. Il l'ambrusco si fa con tante tipologie di uve diverse. Perché? Probabilmente le origini, le tradizioni sono da ricondurre a motivazioni storico-sociali. Reggio è sempre stata la provincia, la città più povera lì in mezzo tra Parma e Modena. Non ha mai avuto lo stimolo di una corte all'interno della quale bisognava stupire anche dal punto di vista enogastronomico i propri ospiti. E quindi il vino che era nato nelle famiglie contadine tale è rimasto. È rimasto un vino contadino per un uso personale, per un consumo locale senza la ricerca di una qualità eccessa. Qualità che pian piano poi è arrivata perché comunque quello che inizialmente poteva essere un limite è diventato forse la forza dell'ambrusco reggiano, della provincia di Reggio. Questa tradizione dell'uvaggio viene poi trasportata nel tempo all'interno delle denominazioni dove troviamo sì la possibilità di fare anche dei monovitigni. Abbiamo il Grasparossa nella zona con le di Scandiana e Canossa, abbiamo il Monte Ricco molto importante sempre nella doc con le di Scandiana e Canossa e abbiamo il Salamino nella doc reggiano. Guarda caso Salamino e Grasparossa al confine soprattutto con la provincia modenese. Ma comunque nelle denominazioni questa voglia, questa tradizione di usare l'uvaggio c'è e rimane ed è proprio sfruttando l'uvaggio che i vignaioli e gli enologi si possono sbizzarrire come degli artisti creando un po' il loro prodotto, usando le uve come pennellate di colore, pennellate di profumi, di sapori. Quindi è difficile a Reggio poter definire bene quali possono essere le caratteristiche del vino reggiano. Bisogna proprio andarlo a sentire uno per uno per andarlo a scoprire. Ecco qua, qui vedete la provincia di Reggio, tra Parma e Modena. si trova come tutta la zona dell'Ambrusco in una zona particolarmente evocata, quello che io chiamo la latitudine dell'eccellenza. Voi sapete che Modena e Reggio si trovano alla stessa identica latitudine di Bordeaux, 44 gradi e 50 centesimi latitudine nord. Non sarà un caso, non aggiungo altro. Da un punto di vista pedoclimatico la provincia reggiana è divisa un po' come tutta l'Emilia Romagna in due grandi zone. Una parte pianeggiante a nord che occupa più del 44 per cento della provincia e poi a salire una zona collinare fino ad arrivare a oltre i 2000 metri di altitudine, anche se dal punto di vista eologico a noi interessano le zone fino intorno ai 450-500 metri, non oltre. La parte pianeggiata partendo dal Po, dicevo 44 per cento, ha un'altezza che varia tra i due e i 70 medio sul livello del mare, quindi molto molto bassa, due metri, fino ad arrivare vicino alla città, il capoluogo a Reggio Emilia che non supera i 70 metri. Ha un terreno prevalentemente di carattere alluvionale, argilloso e limoso, con una tessitura piuttosto fine che diventa un po' più grossolano, un po' più tendente al medio in prossimità dei fiumi, quindi ai confini della provincia, verso il Secchia, verso Modena e l'Enza verso Parma. Il clima è tipicamente continentale, quindi con delle stati molto calde e gli inverni piuttosto rigidi, anche se non particolarmente ricchi di precipitazioni, che ci sono comunque, ma si concentrano soprattutto nei periodi primaverili ed autunnali. L'elemento irrigazione e la pianura reggiana è importante, è importante perché il clima è umido, quindi comunque l'atmosfera è ricca di umidità, il sottosuolo è ricchissimo di falde acquifere, inoltre, ripeto, ci sono due fiumi importanti e inoltre c'è un'importantissima rete di canali di bonifica e questo fa sì che la parte irrigua permetta alle uve prodotte nella parte pianeggiante di essere uve ricche di acidità, ricche di colore, ricche anche di zuccheri, che poi trasmettono chiaramente nei vini che vengono prodotti. Allo stesso tempo però sono un problema per i vignaioli, perché queste caratteristiche umidità fanno sì che tutte le piante, tutte le viti, a prescindere dalla tipologia, tendano a tralciare molto e quindi costringono il vignaiolo ad andare spesso in campo, sia con trattamenti, sia a gestire la chioma per evitare il facile insorgine di patologie fungine. Salendo di altitudine e andando quindi verso sud, dopo il capoluogo, dopo la via Emilia che divide quasi a metà la provincia, troviamo i primi terrazzamenti di pianura. Sono zone molto antiche, hanno diverse centinaia di migliaia di anni, sono suoli molto profondi, dove alle argille e al limo si aggiungono anche formazioni calcare e se saliamo ulteriormente quindi di altezza, qui diciamo questi terrazzamenti si aggirano intorno ai 150-170 metri di altezza sul livello del mare, salendo ulteriormente da questa altitudine fino ad arrivare ai 400-450 metri si aggiungono anche conformazioni marnose, rocce gessose, soprattutto nella parte ai confini con la provincia modenese, zona Sassuolo, Castellarano, Casalgrande, mentre dall'altra parte ai confini con la provincia di Parma vi sono degli affioramenti vulcanici, abbiamo anche delle rocce vulcaniche. Queste caratteristiche fanno sì, insieme a un clima che è più ventoso, a una distribuzione della precipitazione più omogenea durante tutto l'anno e hanno delle escursioni termiche molto più elevate tra il giorno e la notte, oltre che tra l'inverno e l'estate, fanno sì che le uve di questo territorio sono molto profumate e quindi tendono a dare vini molto più profumati, profumi delicati, una grande mineralità, cosa che è più difficile trovare nelle uve della pianura. Dal punto di vista delle denominazioni a Reggio vi sono tre denominazioni, una è la Reggiano Doc, forse la più importante sia dal punto di vista numerico che per anzianità, la sua prima stesura risale nel 1971, l'altra importante è la Colle di Scandiana Econossa Doc che risale nel 1976 e quella più vasta che comprende tutta la provincia, l'Emilia IGT, ma vediamole un pochino nel dettaglio prima di andare all'assaggio. Allora, la Doc Reggiano comprende tre specificazioni, la più vasta è la Reggiano Lambrusco, che comprende tutti i comuni della parte pianeggiante fino ai primi comuni della Quinta Collinare, fino a circa 450 metri di altezza. Qui si produce uno dei lambruschi reggiani per antonomaggio, come vi dicevo, grande uvaggio, 85% comprende praticamente quasi tutte le tipologie di uve lambrusco iscritte nel registro nazionale, tranne due, la Benetti e l'ambrusco del Pellegrino, tutte le altre possono essere previste nel disciplinare della Doc Lambrusco Reggiano, da sole o in uvaggio, insieme naturalmente ad altre uve, perché ripeto, quali lambrusco si faceva con più uve possibili, in particolare ancellotte e malbo gentile, che sono due uve molto importanti della provincia reggiana. Nell'altra specificazione, la Reggiano Rosso Doc, la zona più limitata, comprende i comuni della parte pianeggiante fino solamente alla prima Quinta Collinare, arriviamo intorno ai 250 metri circa, siamo nella parte, soprattutto i comuni pianeggianti, nord orientale, verso la provincia modenese e in questa Doc la voce grossa la fa l'ancellotta, che non è tipicamente un lambrusco, ma che in questa zona è molto coltivata, è un'uva che dà molto colore, molto zucchero, tant'è che viene utilizzata anche per fare i concentrati, è cosiddetto rossissimo, che viene utilizzato, pensato in 45 denominazioni d'origine per poter dare colore ad altri vini di altre regioni anche. E in questa zona, ripeto, l'ancellotta, che deve essere presente nella tipologia tra il 30 e il 60%, insieme a un gran numero di lambruschi, non tutti questa volta, e ad altri vini, vittini invece molto importanti dal punto di vista della struttura, il Malbo Gentile, il San Giovese, il Merlot, il Marzemino, quindi capite vini che danno, il Cabernet Sauvignon, che danno molta struttura a questo vino. La terza specificazione è la Doc Reggiano-Lambrusco-Salamino, qui siamo al confine con Modena proprio, secondo me è stata Modena che ci ha invaso ed è venuto a mettere il Salamino da noi, ma benvenga, il Lambrusco-Salamino in questa zona, come diceva il collega, si trova molto bene, è una zona argillosa e quindi la Doc Reggiano è previsto proprio per i comuni della parte ad est del torrente Crostolo, che attraversa la provincia centralmente e al confine con Modena, comprendendo anche il Comune di Reggio, si può fare questa denominazione reggiano-Lambrusco-Salamino. 85% deve essere Lambrusco-Salamino. Le rese sono abbastanza contenute, per essere Lambrusco, stiamo parlando di 180 quintali per ettaro, nel 2000, anno non particolarmente produttivo, questa Doc ha prodotto 8.700.000 bottiglie di vino, dati valori Italia, è stata la terza in Italia dopo la Modena Doc e il Graspa Rossa di Castelvetro. Collega di Scandiana e Canossa, zona prevalentemente collinare, al suo interno si possono produrre diverse specificazioni, quelle che interessano sostanzialmente a noi sono tre, dimenticavo, nella Doc Reggiano c'è anche Lambrusco-Bianco-Spumante, che però vi sfida a trovarlo, è quasi impossibile, quindi non ve l'ho ricordato, ve lo ricordo solo per curiosità. Le specificazioni della Collega di Scandiana e Canossa Doc sono particolari, sono tre, quelle che interessano a noi, sono il Lambrusco-Montericco e il Lambrusco-Graspa Rossa, due potenziali monovitigni e uno che invece rispecchia il solito uvaggio reggiano. Per la verità, in questa zona più recente, anche come Costituzione, si è cercato di caratterizzare un po' di più i prodotti, quindi anche nell'uvaggio vedete, si è limitato il numero delle tipologie di vitini e anche di Lambruschi che si possono utilizzare, solamente il Maestre, il Marano, Marani, Salamino e Barghi. Il Barghi è molto importante per Reggio perché è un Lambrusco autottono reggiano, era quasi scomparso, è stato recuperato alla fine degli anni Ottanta dall'Istituto Agrario di Reggio, l'Istituto Zanelli, e da quel momento ha cominciato a devolversi un pochino, per la verità ce ne sono pochissimi, stiamo parlando di poche decine di ettari, ma quando lo riuscite a trovare in purezza o comunque in buona percentuale un certo uvaggio si fa sentire perché è molto elegante, molto speziato, ha delle note che ricordano un po' le spezie del pino nero, quindi è un Lambrusco veramente molto interessante, era difficile da coltivare, non produceva molte e quindi fu abbandonato un po' nel tempo. Altro Lambrusco molto importante in questa docca è il Lambrusco Montericco, anche il Montericco è un vitigno autottono reggiano, della prima collina reggiana, della parte centrale della collina reggiana, siamo in comune di Elbinea, proprio ai confini col comune di Reggio, anche questo è un Lambrusco molto elegante, molto chiaro, da pochissimo colore, tant'è che si presta benissimo e lo prevede la tipologia ad essere venificato anche in rosato, anche questo dalle note molto vegetali, molto speziate, veramente di un'eleganza notevole, difficile da coltivare, anche questo in cantina come diceva il collega con il Salemino ha dei problemi di riduzione, quindi quando si riesce a trovare veramente un grande Montericco è un piacere poterlo sentire. Del Grasparossa deve essere presente, per rientrare la dominazione almeno l'85% del vitigno, le caratteristiche ve le sono state già ampiamente spiegate. Qui la resa è più bassa, siamo in collina, si è cercato di fare una doc che puntasse molto sulla qualità, si è limitata la resa a 160 quintali per ettaro, ma vi posso garantire che chi produce in questa doc difficilmente supera i centoquintali per ettaro. L'ultima denominazione è un IGT, siamo nella Emilia IGT, per regge è molto importante, è molto importante perché in questa denominazione si può veramente realizzare quello che è il lambrusco tradizionale della provincia reggiana, cioè quello col massimo degli uvaggi. È un IGT che chiaramente comprende tantissime specificazioni, quella che interessa a noi oggi è la specificazione del lambrusco, che può essere diversissimo perché può essere rosso, rosato, bianco, nelle tipologie sia frizzante che spumante, ma anche frizzante novello, addirittura come mostro parzialmente concentrato, quindi dolce, prevede da disciplinare che l'85% debbano essere tutti i lambruschi previsti nel registro nazionale. L'altro 15%, per dimostrare come proprio questa qua rappresenta a mio avviso la storia un po' del lambruscareggio, possono essere compresi in questo 15% tutte le uve a bacca nera autorizzate in Regione Emilia Romagna, tutte. Quindi qua veramente ci possiamo trovare qualsiasi cosa e possiamo veramente dare spazio alla fantasia. Il primo vino quindi che andremo a sentire oggi è proprio un Emilia IGT, è un vino molto particolare che comprende 21 vitigni differenti, è proprio un lambrusco antico che è diventato moderno, forse quello che si assomiglia di più ai lambruschi che avevano fatti forse 200 anni fa o 500 anni fa. Comprende tutte le tipologie di lambrusco, più alcune uve autottone molto rare della provincia reggiana, la sgavetta, la termarina, la fogarina, in più vitigni molto importanti sempre per il reggiano come il malbo gentile, l'ancellotta, il marzemino, quindi capite che veramente qua dentro troveremo una vastità di vitigni che dovrebbero, nell'intento del produttore, questo è un esperimento nato nel 2002 proprio per volontà dell'istituto agrario di Reggio Emilia, di recuperare dei vecchi vitigni scomparsi e provare ad andare a fare un vino che rispecchiasse le caratteristiche più tradizionali dell'ambrusco della provincia reggiana. Aspettiamo che abbiate tutti il vino e poi dopo andiamo a sentire. Guardate già, cominciate a guardare il colore, il fatto di avere al suo interno tantissimi vitigni fa sì che il colore è forse quello meno l'ambrusco che ci si possa aspettare, perché ha già delle notte che vanno verso il rubino, difficilmente troviamo dei lombruschi che abbiano delle notte, ci sono per l'amore del cielo, ma qui, guardate, è un rubino anche abbastanza tenue, bello brillante, quindi l'effetto di questi vitigni all'interno del vino si fa chiaramente sentire, siamo su un colore tutto suo particolare e quindi come vi dicevo è difficile veramente andare a dare una caratterizzazione ai lambruschi della provincia reggiana, perché anche quando stiamo parlando di un Emilia IGT, ma poi vedremo dopo quando parliamo di un reggiano doc, nel reggiano doc io potrei trovare un 100% grasparossa, potrei trovare un 100% salamino, potrei trovare un 100% marani, maestri, non ho una regola precisa, ho un quadro all'interno del quale io, viticoltore, io enologo, creo il mio vino. Quindi dicevamo, guardate il colore, è un rubino molto bello, luminoso, con alcuni riflessi più chiari, invitante, assolutamente un vino invitante. al naso, per un vino come questo bisogna avere un po' di pazienza, perché tutto ciò che ha dentro non può uscire allo stesso momento, quindi probabilmente le note tipiche dell'ambrusco le sentiamo, cioè il fruttato delicato, i piccoli frutti rossi ci sono, le note floreali di viola ci sono, ma qui si sente anche qualcosa che va oltre, è un frutto che oltre al piccolo frutto rosso anche di una ciliegia, anche una marasca, quindi qualcosa di più corposo, di più strutturato, ha delle leggere notte quasi speziate, una spezia quasi dolce, qualcosa mi ricorda anche un leggero agrumato, un bergamotto, quindi capite che è veramente c'è tanta roba qua dentro. Il risultato che si voleva ottenere era proprio questo, un vino che pian piano, nel tempo, dandogli la pazienza di stare nel bicchiere, potesse tirar fuori tutto quello che c'è nella provincia reggiana. Sentiamo in bocca, è secco, chiaramente i zuccheri qua siamo vicini allo zero, però ha una bella rotondità, anzi un bel equilibrio tra rotondità, morbidezza e le parti più dure, mineralità, l'acidità si sente, non è eccessiva. E' un vino che invita a bere, un vino gastronomico, un vino che si abbina benissimo con tante cose, il gnocco frittoreggiano con i salumi sarebbe non più sultra, ma si può abbinare anche a piatti un pochino più strutturati, i primi piatti, coniglio arrosto, quindi veramente ci può prestare una vasta gamma di possibili abbinamenti. Se ne riuscite a tenere un po' è interessante vedere il confronto del colore con i vini successivi. Allora, stiamo aspettando gli ultimi per gli ultimi che abbiano il vino e il bicchiere, e qui invece cambiamo denominazione, andiamo nella denominazione, come vi dicevo prima, più antica, reggiana, reggiano doc, e in questo caso siamo nella specificazione reggiano lambrusco. Ma come vi dicevo prima, qua dentro ci si può sbizzarrire a fare un po' quello che, non dico quello che si vuole, ma a creare il proprio vino e qui siamo di fronte a un cru. Tutte le uve di questo prodotto vengono da un unico podere, che si chiama podere la rampata, ed è 100% salamino. Incredibile. Quindi siamo in un reggiano lambrusco, avrebbe potuto metterci dentro almeno 10 tipologie di vitigno diverso, più altre uve, 100% salamino. Qui si è cercato di andare a creare un vino che avesse le caratteristiche un po' che diceva il collega prima. Guardate il colore, impenetrabile, veramente impenetrabile, è tra il rubino e il porpora, ma guardate l'intensità di questo colore. Mi fa quasi capire che c'è stata una lunga macerazione sulle bucce per questo vino, perché è vero che il salamino è un vino molto colorato, ma guardate questo colore è veramente intenso. Però allo stesso tempo rimane bello vivace. Sentiamo al naso. E' intrigante. I profumi che arrivano immediatamente sono quello di frutti maturi, marasca, ciliegia. Frutto maturo, ma allo stesso tempo non spento, con una bella nota fresca, una bella nota cilula. Poi ha delle note che vanno sul vegetale. Naturalmente qua i tradizionali piccoli frutti di bosco ci sono tutti. E forse nel bosco rimaniamo anche con la nota vegetale, perché mi ricorda un po' delle note velatissime di sotto bosco, di foglie bagnate, veramente una cosa complessa. E' anche qualche cosa di balsamico, leggermente speziato. Un vino che ha una complessità importante. In bocca è rotondo, caldo. Qua l'alcol lo percepiamo, nonostante sia un vino con una struttura importante, l'alcol si sente. Però è piacevole. È piacevole perché contribuisce a creare quelle morbidezze che ben si bilanciano con un leggero tannino, una bella acidità. Anche una dischetta mineralità che si ritrova proprio nei territori in cui viene prodotto questo vino, che sono le prime colline, anzi, i terrazzamenti alti di pianura appena su di Reggio. Un vino importante, un vino assolutamente piacevole da bere, che rimanendo in Regione potremmo certamente abbinare con delle belle tagliatelle al sugo, in grado di pulire bene la bocca, un sugo importante, un sugo magari anche di selvaggina, questo qua è un vino che potremmo continuare il nostro pasto dopo un antipasto di salumi e gnocco fritto con il primo vino, passeremo ai primi piatti con questo secondo. Bene, il terzo vino, rimaniamo in questa doc, ma siamo nella Reggiano Rosso e quindi appena sentito parlare Reggiano Rosso viene subito in mente Ancellotta. E così è, questo è un uvaggio di Ancellotta e altre tipologie di Lambrusco, ma qua dentro c'è il 60% di Ancellotta. L'Ancellotta ha una caratteristica colorante particolare e lo vedete già dal colore, guardatelo, intenso, tra il purpuro e il violaceo, è il tipico colore dell'Ancellotta. Se voi avete mai avuto modo, avrete modo di trovare il rossissimo, di vedere il rossissimo, ha questo colore. brillante, notte di un rosso molto giovane, appunto, purpureo, violaceo, riflessi che denottano tipici dei vini giovani. Al naso, molto intenso. Qui l'Ancellotta veramente esce tutta. L'intensità, avete sentito in rapida sequenza gli altri due, qui la sentite molto, molto più evidente. Se volete, non è così complesso come gli altri due vini, ma l'intensità è molto forte. I profumi non sono così ampi come negli altri due. qui troviamo un frutto più maturo, meno acidulo. Può ricordare un prugnolo maturo, un nespolo selvatico. Ecco, il nespolo selvatico proprio. Questo qua è il profumo, se avete occasione di sentire, le nespole selvatico, quando sono pronte, durante la fine estate, ha proprio queste profume quasi di frutta molto evoluta. Rimane naturalmente i sentori classici dei piccoli frutti e ha un finale bell'evidente, secondo me, di floreale, di viola, di violetta. In bocca? Sentiamo un po'. Bello strutturato e soprattutto quello che distingue questo vino da quelli che abbiamo sentito è la chiara nota tannica. Qui il tannino si sente veramente bene. È una caratteristica peculiare della doc Reggiano Rosso, perché oltre all'ancellotta abbiamo la possibilità di mettere al suo interno anche vitigni che hanno un tannino importante come può essere il Malbo Gentile, il Marzemino, il Cabernet, quindi vitigni importanti, ma gli stessi Lambruschi che sono in questa denominazione sono Lambruschi che possono portare a queste note strutturate. Quindi lo sentiamo rotondo, vedete che riempie molto bene la bocca e questa sua rotondità è ben equilibrata con il tannino che supporta una freschezza leggermente inferiore rispetto a quello che potrebbe essere la freschezza di un Lambrusco. Compensata però anche da una bella mineralità, quindi tutto sommato è un vino che ha un bel equilibrio tra le rotondità e le sue parti un po' più spigolose. È un vino che secondo me proprio per le sue caratteristiche si può abbinare con questo tannino anche a delle carni importanti, potrebbero essere carne alla brace, un po' il sangue o anche ad esempio delle carni stracotte come può essere uno spezzatino o comunque qualche cosa che lasci la bocca ricca di succhi che vengono ben puliti da quel bel tannino che troviamo in questo prodotto. Io avrei finito e lascio a Parma. Buonasera a tutti. Allora, proseguiamo con il nostro percorso. Attraversiamo il fiume Enza quindi ce ne andiamo da Reggio nella zona di Parma. Eccoci qua. Allora, come vi dicevo parte est abbiamo la parte reggiana la parte soprattutto di pianura ed entriamo tra la zona del torrente stirone quindi il confine dei colli piacentini con il confine dei colli reggiani abbiamo appunto il nostro territorio che sono i colli di Parma. Colli di Parma zona pede collinare collinare e montana non arriviamo agli 800 metri solitamente la viticoltura si sviluppa dai 220 ai 400 450 comunque tutto il resto la possiamo già definire una viticoltura unica e soprattutto non la posso definire eroica ma una viticoltura non semplice data anche dalle varie composizioni di terreno che a breve vi farò vedere. 14 i comuni che comprendono il nostro territorio quindi i famosi colli di Parma è una piccolissima realtà una realtà dove abbiamo semplicemente ma in maniera unica il Lambrusco Maestri che arriva naturalmente dal confine reggiano in cui abbiamo una viticoltura decisamente più importante rispetto al nostro territorio di Parma questi 14 comuni identificano come potete vedere Traversetolo Langhirano io ne ho identificati qualcuno che sono quelli che sono maggiormente identificati attraverso le varie differenze di territorio ma in cui abbiamo queste valli quindi la Val Baganza la Val Parma e la Val Taro dove si trova appunto la nostra viticoltura ecco qua le varie composizioni di terreno quindi la nostra zona pede collinare collinare e montana in cui abbiamo delle differenze sostanziali di composizione composizione naturalmente che si sono create negli anni nel tempo in cui come potete vedere nella prima foto abbiamo i famosi calanchi noi andremo a bere a breve anzi invito i colleghi sommelier a versare il primo vino che appunto si chiama Calanchi di derivazione dal terreno da cui viene prodotta il Lambrusco Maestri poi abbiamo anche i primi colli dove avremo queste argille azzurre plioceniche dove andremo a degustare il secondo vino che sarà nella zona Val Parma esattamente nella strada del vino mentre invece la piana dei fiumi appenninici è quella solitamente meno coltivata Storia per non essere troppo prolissa troppo lunga parto appunto dal 1900 in cui l'uva naturalmente era utilizzata come alimento quindi il vino era un alimento e negli anni poi è stato utilizzato come bevanda semplicemente partendo dalla pianura si coltivava soprattutto il Lambrusco e il Trebbiano mentre in collina avevamo la Malvasia e avevamo il Barbera che per le condizioni climatiche pedoclimatiche soprattutto di un tempo perché ricordiamoci che negli ultimi anni abbiamo avuto dei cambiamenti climatici molto importanti l'uva Lambrusco e Trebbiano erano naturalmente coltivati in Fondovalle poi cos'è successo? Fondovalle la pianta l'uva era maritata agli olmi e agli aceri arriva la filossera a metà del 1900 in cui l'uva e i vigneti vengono sterminati e arriva anche la graffiosi ovvero la malattia dell'olmo l'olmo era naturalmente il famoso albero dove l'uva maestri il Lambrusco maestri si maritava e dove si andava a raccogliere perché nel centro nei campi naturalmente veniva coltivato il grano soprattutto quando durante la seconda guerra mondiale Mussolini voleva il grano non voleva l'uva perché bisognava dare da mangiare anche ai soldati bene seconda guerra mondiale quindi abbiamo il grano abbiamo l'estirpazione dei vigneti abbiamo oltretutto il problema della filossera ecco che andiamo a perdere una notevole quantità di vigneti arriva poi il piede americano si inizia a innestare e la viticoltura soprattutto dell'Ambrusco riprende ma in collina ce la faremo eccoci arriviamo negli anni 70 ovvero nel 77 in cui poche persone pochi produttori credono nel territorio quindi iniziamo dopo la guerra iniziamo ad avere una produzione di qualità questi personaggi tra cui Isidoro Lamoretti che è il primo presidente nel 77 fondano il consorzio dei colli di Parma fino a ottenere nell'82 la DOC la denominazione di origine controllata in questo modo cosa succede attualmente abbiamo 49 aziende associate ma non tutte producono e vendono producono imbottigliano e vendono solo 22 perché tanti produttori attualmente preferiscono vendere le uve ma soprattutto mantenere i loro vini anche al di fuori della DOC perché abbiamo tantissimi produttori soprattutto quelli nella zona definiamo la più montana quelli oltre i 400 che preferiscono vinificare singolarmente le loro uve e venderle senza la denominazione due piccoli dati nel 2018 abbiamo avuto 7.180 ettolitri di vino di produzione mentre invece nel 2020 abbiamo avuto 2.000 ettolitri in meno meno resa più qualità poi ci sta anche che le condizioni climatiche ultimamente siamo anche molto soggetti alle grandinate purtroppo ahimè non sempre la produzione può essere costante che cos'è il Lambrusco Maestri? il disciplinare lo integra negli anni 2000 perché negli anni 80 quando nasce appunto la DOC cosa succede? c'è la Malvasia perché per tradizione è territorio di Malvasia il Trebbiano il Barbera visto che i produttori credevano molto nel territorio cosa hanno deciso? hanno convinto il consiglio e soprattutto il consorzio a chiedere di poter cambiare il disciplinare quindi negli anni 2000 arriva la famosa riforma del disciplinare in cui la DOC Colli di Parma Lambrusco viene inserita 85% minimo solitamente a parte l'ancellotta che è stata nominata dal collega si tende a utilizzarlo in purezza perché è questo? e lo sentirete appunto nel primo vino ha caratteristiche uniche identitarie versione io ho scritto anche tipologia frizzante ma lo beviamo frizzante al massimo sfumante è difficilissimo berlo nella versione ferma difficilissimo proprio perché ha delle caratteristiche l'uva che consentono di poterlo bere frizzante quindi brioso ma soprattutto perché è tradizione per noi bere il vino frizzante ho dato alcuni dati il titolo alcolometrico e l'acidità l'estratto ridotto l'estratto diciamo totale e eccolo qua Lambrusco Maestri alias Groppello Maestri dove nasce esattamente? a Villa San Parcrazio di Parma quindi è autoctono della zona di Parma è nostro punto non esistono altre tipologie di Lambrusco perché abbiamo il Maestri viene diciamo definito Lambrusco scuro e lo potete iniziare a vedere nel calice proprio prendetelo in mano perché iniziamo anche la degustazione e appunto nel 70 viene iscritto nel registro nazionale quindi 70 viene riconosciuto 77 viene fondato il consorzio nell'82 avviene la denominazione di origine controllata ma dove lo troviamo noi questo Lambrusco? In Puglia è uno dei vitigni più coltivati oltre i vitigni autoctoni pugliesi anche in Puglia Bari Lecce come potete vedere proprio dalla fonte Istat dalla fonte Valori Italia 1192 ettari contro i 643 dell'Emilia Emilia totale quindi Emilia Parma e Reggio lo possiamo trovare naturalmente anche nel Colli Lambrusco Mantovano quindi soprattutto nel Sabbionetano e nel Viadanese e lo possiamo trovare anche qualche piccolo scorcio in Veneto zona Rovigo lo possiamo trovare anche a Pordenone e anche nella zona di Belluno ecco qui una foto di come viene identificato nel registro nazionale un grappolo medio un acino medio e tanta 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 pruina quindi abbiamo un germogliamento ad aprile una maturazione tardiva elementi che portano ad avere un lambrusco unico come vi dicevo prima perché è un lambrusco maschio innanzitutto scuro fa la schiuma colore viola bella acidità ma soprattutto tannino è a mio avviso il lambrusco più rustico di tutta la famiglia naturalmente si adatta ai terreni freschi e umidi perché comunque abbiamo le zone cananchive le zone argillose ricordiamoci appunto delle argili azzurre e in questo momento sono identificati solo tre cloni ma penso che sia anche più che sufficiente bene facciamo la nostra degustazione primo vino lambrusco maestri doc si chiama i calanchi proprio perché deriva da un terreno calanchifero e come appunto vi dicevo potete notare l'impenetrabilità al centro del bicchiere un colore rubino con riflessi sicuramente purpurei e una leggera spuma evanescente che mi fa pensare appunto a un vino frizzante al naso al naso sentite già questa mascolinità questa ruvidità questo frutto scuro questa viola perché il frutto scuro e la viola sono diciamo identitari del maestri e c'è una bella corrispondenza una mora di robo e un finale anche leggermente vegetale barra balsamico lo sentite in bocca com'è teso deciso diretto ma soprattutto ha questa acidità che invita il secondo bicchiere perché qui si finisce la bottiglia senza problemi e il tannino voi sentite una leggera astringenza al centro della lingua ecco signori questo è l'Ambrusco Maestri a livello didattico questo è l'Ambrusco Maestri secondo vino andiamo avanti con il secondo vino qui vediamo già una presenza una traccia di una spuma che probabilmente era molto più presente al momento del servizio comunque abbiamo manteniamo un colore abbastanza impenetrabile al centro un colore più tendente al rubino dove appunto viene identificato la matrice colorante del Maestri confermo queste note di frutta ma c'è anche una frutta leggermente più rossa abbiamo sempre la mora di rovo ma abbiamo anche un ribes ma abbiamo anche oltre alla viola una rosa perché questa è una rosa e se mi posso permettere anche percezioni di pesca gialla finale di mora di rovo finale anche leggermente vegetale al sorso ecco signori qui avete una versione leggermente più morbida avete una presenza maggiore di zuccheri e si percepisce e voi avete avuto l'occasione in questi due vini di poter assaggiare quello che è in questo campione il lambrusco il primo campione il vero lambrusco ovvero la tannicità la ruvidezza la rusticità del maestri questo ha un residuo zuccherino leggermente maggiore che ci consente di poterlo facilmente abbinare abbinare a che cosa? ha una spalla cotta calda di San Secondo con un po' di giardiniera se volete un po' di cipollina oppure anche visto che è per noi tradizione la carne di cavallo una vecchia di cavallo il primo vino invece mi permetto di abbinarlo direttamente al carrello dei bolliti oppure al classico cotechino ma anche se volete ha un tortello di zucca soprattutto questo bene io ho terminato mi ha fatto veramente piacere farvi degustare questi due vini perché ci tenevo molto a fare in modo che voi poteste sentire quello che è la tradizione e quello che è invece il gusto che piace adesso perché è fondamentale anche mantenere la tradizione come è fondamentale riuscire a portare il Lambrusco a livello nazionale non solo locale e per me è fondamentale farlo conoscere bene grazie vorrei datemi un minuto per fare i ringraziamenti finali vorrei che i tre relatori si alzassero perché descrivere i tre territori e la varietà dei Lambruschi in così poco tempo ed essere così esaustivi e precisi non è facile quindi io farei un applauso a loro perché sono stati veramente bravi vorrei ringraziare anche in questo minuto finale il consorzio di tutela della Lambrusco di Reggio Modena nella persona di Giacomo anche perché i prodotti che avete sentito durante la degustazione per la parte di Parma e Reggio sono offerti da loro così come quelle di Parma sono offerte da Monte delle Vigne e da Ariola in più mi permetto ancora adesso mi alzo io di ringraziare i sommegli di servizio che hanno vi hanno servito i vini Zerbinati Daniele il capo brigata Sara Comastri Ivan Del Monte e Cristina Simonato nonché anche il nostro tecnico volevo ringraziare Loli Marzio io spero che siamo riusciti a stare nei tempi siamo stati bravissimi spero che insomma vi abbia lasciato veramente un segno questa Masterclass e un approfondimento del territorio di tutti i vini di cui vi abbiamo parlato grazie a tutti se avete domande siamo fuori dai tempi perfetto grazie grazie a tutti buon proseguimento